La PMG Project presenta i Fix Forb in concerto. Al Supersonic Music Club di Foligno, un'imperdibile occasione per passare una serata insieme a Diego Arrigoni, Stefano Forcella e Millie Fanzaga e la loro travolgente musica Funk Progressive. Partecipa alla piricena insieme ai tuoi beniamini. Cosa aspetti? Per info e prenotazioni, PMG Project 346 36 14 848, i Fix Forb in concerto a Foligno. Sabato 24 gennaio, ore 22, i Fix Forb al Supersonic Music Club di Foligno, via Vinci 20, località Pacciana.